Meno 73%, a tanto, ammonta la perdita idrica nelle falde sotterranee di Piacenza. La morsa della siccità non si allenta, anzi raggiunge livelli preoccupanti. Piacenza fa dunque pressing sulla Liguria per ulteriori rilasci dalla diga del Brunieto. E in questo senso si registra una lieve apertura da parte della regione confinante. Lo fa sapere il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, dopo la videoconferenza di stamattina con l'assessore alla protezione civile della Liguria, Giacomo Giampedrone. Presenti in collegamento anche il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore regionale Irene Priolo. Nei giorni scorsi le dichiarazioni di Giampedrone sul sito online Genova24 avevano reso impossibile pensare a un rilascio in più al Trebbia. Ad oggi, aveva detto, il Brunieto non è nelle condizioni di poter rilasciare cifre ulteriori rispetto a quelle che abbiamo già anticipato. Le istituzioni locali hanno dunque provato a ottenere qualche garantia in più perché la carenza d'acqua mette in serio pericolo il mondo agricolo e non solo. Il sindaco Tarasconi comunica che è attesa una risposta da parte della regione Liguria per domani mattina in base al ricalcolo di alcuni dati idrici.